Direttore, una vittoria importante, sofferta, ma una bella partita da parte dei nostri. Sì, oggi abbiamo fatto una buona partita, la partita poteva avere anche un risultato un po' più ampio, però dai, godiamoci i tre punti, sono importanti per il morale e anche per la classifica. Ecco appunto, parlavi di classifica, tante volte si è parlato del fanfulla, però siamo tutte lì, è un campionato che abbiamo imparato in queste prime dieci giornate che è equilibratissimo. Sì, molto equilibrato, noi lo sapevamo, un girone che conoscevo già, ho sempre detto che ci sono 6-7 squadre che secondo me hanno degli obiettivi diversi e ovviamente budget diversi, noi sappiamo che dobbiamo stare nel secondo gruppo, il secondo gruppo lo reputo abbastanza equilibrato, noi siamo una squadra giovane, l'avete visto, è una squadra che cresce giorno per giorno, ha bisogno di lavorare, ha bisogno di acquisire maggiormente gli automatismi del mister e sono convinto che dai, bisogna avere pazienza e con la pazienza possiamo far bene. Oggi grande partita da parte di tutti, però appunto parlavi di giovani, tiro di Agnelli, respinto del portiere, gol di Muldu che è il 2002. Sì, appunto, è quello che dico, noi siamo una squadra giovane, ripeto, i giovani possono farti la prestazione importante, come magari possono subire anche un po' di calo, questo è normale, è un calo fisiologico, oggi secondo me abbiamo fatto quasi tutti bene e quindi bene così, dobbiamo andare avanti così.